Sì, era giusto ricominciare da qui, da dove è nata la banca, era giusto ricominciare da quell'idea di quelle persone che appunto 130 anni fa hanno voluto scommettere nella creazione di un istituto che potesse dare delle risposte a delle condizioni di vita che a fine del 1800 erano veramente molto molto difficili. Questo è importante non soltanto ricordare quella situazione, ma è importante ricordare a tutti noi che il credito cooperativo è ancora vivo, è un credito cooperativo forte, anzi che risulta essere ancora molto rispondente perché riesce a dare quella risposta di presenza dei territori. Sappiamo oggi la difficoltà di trovare sportelli, anzi vediamo la cosiddetta la desinfettificazione bancaria, mentre il credito cooperativo rimane nei luoghi, rimane ad essere presente laddove è nato, praticamente nei territori. Noi vogliamo essere la banca a cui riferirsi perché vogliamo dare quelle opportunità alle comunità locali di poter continuare ad essere protagonista della propria economia e questo lo puoi fare solo se tu hai un supporto e questo supporto viene proprio dalle banche di credito cooperativo. Non soltanto poi siamo presenti nel sociale, ma perché è una presenza che è completamente ISG compliance, perché siamo praticamente una realtà che è attenta alle esigenze della singola persona. Quindi in questo senso io credo che oggi non festeggiamo soltanto un evento storico, ma stiamo ricordando a noi stessi quel grande patrimonio di responsabilità sociale, ma anche quella grande forza che in questi anni abbiamo acquisito e vogliamo ancora per il futuro essere una banca di riferimento, la banca di riferimento del territorio, perché gente del territorio.